Benvenuti dal vostro Anaru Sensei Se anche voi siete stanchi di vedere la vostra bellissima NVIDIA J-Force Experience che continua a mangiarvi una carrettata di RAM, di processore, di connessione internet di installare una marea di servizi per controllare le versioni per fare telemetria del vostro computer per dire all'NVIDIA che genere di computer avete che giochi giocate, quanto, tutte le vostre cose e volete essere più puliti magari anche dopo aver installato Windows 11 o anche il vostro Windows 10 o qualsiasi altro sistema operativo e volete stare leggeri e puliti senza tutti questi servizi che continuano a mangiarvi risorse questo è il video che fa per voi perché oggi vi insegno il trucco definitivo come sempre però vi chiedo di iscrivervi al mio canale di attivare la campanella così con le nuove notifiche vedrete tutti i video che usciranno se volete vi potete addirittura abbonare al canale usufruendo di notevoli vantaggi tra cui anche una VPN illimitata detto questo come sempre ci vediamo dopo la sigla ribenvenuti da Naro Sensei allora per chi non lo sapesse un po' di tempo fa a dire la verità è parecchio perché è tipo 22 agosto 2020 quindi è parecchio tempo avevo fatto un bellissimo video su come stoppare la telemetria dell'NVIDIA e sistemare il lag in game dovuto a questo fattore avevo spiegato se andate a vedere come poter modificare ad esempio il file host per fare in modo che tutta la telemetria venga bloccata come vedete per chi non si ricorda o non lo sapesse c'era una camionata di servizi sempre attiva che mangia RAM che mangia connessioni internet che mangia di tutto era possibile utilizzare il file host vi faccio giusto un piccolo riepilogo oppure anche un programmino simpatico che faceva tipo un pannellino con acceso spento per tutte quante le varie telemetrie qual è il punto? il punto è che se utilizzate il file host come avevo già spiegato l'NVIDIA con aggiornamenti su aggiornamenti dopo mesi e mesi e mesi può cambiare i valori di quel file host e quindi non rendere più funzionante il trucchetto mentre programmi come questo vanno benissimo ma sono comunque programmi che cercano di disattivare e in qualche maniera ogni volta che c'è un aggiornamento può anche qui attivare o disattivare o rendere obsoleto il programmino avevo insegnato anche altri trucchetti ad esempio se non vado errato con ipotesi Ccleaner andare sui processi pianificati verificare tutti i servizi all'avvio disattivarli eccetera funziona e funzionava però è da dire anche che avete un computer tra parentesi sporco di servizi disattivati la fermi che non servono a niente soprattutto di servizi che possono da un momento all'altro ripartire o riaggiornarsi perciò questo è un sistema che va benissimo che funziona benissimo soprattutto se siete di videogiocatori come il sottoscritto ovvero persone che necessitano di utilizzare il pannello dell'NVIDIA GeForce Experience per ad esempio registrare i giochi mentre giocate registrate gli ultimi 5 minuti è fantastico funziona da Dio funziona benissimo ha una marea di servizi utilizzabili anche ad esempio la regolazione automatica delle impostazioni migliori grafiche per ogni gioco ma cosa che personalmente io non ho mai usato perché spesso e volentieri mi va a scombinare le impostazioni che mi interessano comunque detto questo oggi vi mostro un sistema molto più semplice molto più facile e sicuro per avere dei driver puliti prima di tutto si va sul buon e caro vecchio sito ufficiale dell'NVIDIA è nvidia.com .it quello che volete andate sul vostro driver qui sulla pagina dei driver e andate andrete mi sono incartato a selezionare il driver corretto nel mio caso per questo pc Imedia JForce serie 16 GTX 1660 super sistema operativo selezionate quello corretto nel mio caso 11 a questo punto come vi avevo già spiegato tempo fa potete selezionare due differenti versioni loro anche vi spiegano grossolanamente qual è la differenza sostanzialmente driver game ready è l'ultima versione sempre aggiornata con l'NVIDIA JForce Experience di base con tutti quanti i servizi quindi qui avrete praticamente l'ultima versione ma piena di tutta la porcheria tra parentesi anche se è ni è vero in parte mentre il mio consiglio adesso è di utilizzare driver studio quindi la versione SD una volta scaricata questa versione non è altro che il driver nudo e crudo che vi va a attivare a far funzionare la vostra scheda grafica ora ci sono delle piccole note tecniche da tenere conto la prima questa è una cosa che si utilizza soprattutto per chi deve lavorare deve navigare su internet usare word programmi di disegno programmi di lavoro in genere gente che può anche giocare però se volete giocare o mantenete sempre aggiornato il driver o comunque potete andare sul sito ufficiale vedere i log ogni tanto delle novità se sono novità interessanti spesso volentieri buttano fuori un giga di aggiornamento di scheda video solo per aggiungere la compatibilità ad un gioco che magari neanche giocate perciò prima di fasciarvi tanto la testa quando scaricate 3 o 4 versioni all'anno una per semestre per ogni 3-4 mesi scaricate una versione di driver siete più che a posto una volta scaricato come sempre doppio clic date la vostra conferma e cosa succede vi farà scaricare decomprimere tutto quanto il pacchettino che ha scaricato ve lo butterà dentro il C e qui c'è la cartellina invidia cosa che poi volendo potete anche eliminare in modo da essere più liberi una volta fatto questo dovrete selezionare solo ciò che vi serve ora andiamo a vedere assieme praticamente la cosa che assolutamente sconsiglio è installare la jforce experience eccolo qua quindi da questo momento in poi potete decidere installo solo il driver grafico o il driver grafico più tutto il casino di servizi che possono essere più o meno inutili a questo punto la selezione è molto molto logica ovvero driver grafico invidia basta niente altro questo è il trucco questo è il succo della questione dopodiché mettendo accetta e continua si va avanti si selezionano i driver potrete decidere su personalizzata sempre ok avanti e qui controllare verificare quali sono i driver correnti che avete installato e i driver che invece vi mancano li potete installare tutti tranne nvidia jforce experience quindi non mettete la spunta su questo perché altrimenti tanto vale come vedete io ho tutto quanto aggiornato tranne nessuna versione di nvidia jforce experience altra cosa sempre che consiglio è sempre cliccare esegui un'installazione pulita perché tutto lo schifo che poteva esserci prima all'interno della vostra macchina verrà prima disinstallato ripulito completamente a volte verrà richiesta anche fare il riavvio del pc dopodiché ripartirà l'installazione e l'aggiornamento a quel punto avrete il driver nudo e crudo senza tutta la porcheria come vedete io qua ho il classico pannellino dell'invidia non ho l'invidia jforce experience ok e anche a livello di gestione attività non sono più massacrato da una tonnellata di servizi dell'invidia ok ma ne ho solo due uno mi consuma 14 mega l'altro mi consuma 3 mega di ram quindi sono super pulito non mangia niente e ho tutto quello che mi serve con questo sistema qua credetemi ho smesso di laggare ho smesso di arrabbiarmi perché ho connessione internet mangiata per niente in questa maniera non ho nulla che mi dà fastidio è una cosa talmente semplice che è impossibile non pensarci o almeno di provare l'unica pecca appunto sta nel fatto che io ogni tot di tempo do un'occhiata ai driver nuovi posso anche per dire far girare driver booster e driver booster stesso o qualsiasi altro software che mi interessa uso driver booster perché mi piace mi trovo molto bene ed è anche portable faccio la scansione in 10 secondi meno verifico che la mia scheda grafica è a posto ok e sono pulito e tranquillo in questo momento ho solo due driver dell'usb tra parentesi obsoleti in realtà non è niente vero perché li ho aggiornati ma a parte questo la mia nvidia è a posto e quindi non devo andarmi a scaricare tra l'altro una tonnellata di driver perché sono 783 mega adesso mediamente con l'invidia geforce experience si scaricano 900 mega ogni volta è sempre di più quindi si arriverà a un punto veramente di non ritorno alla fine la mia scheda video funziona perfettamente lo stesso e anche se non ho l'ultimissimo driver non muore nessuno questa cosa chiaramente è consigliata a tutti quelli che non necessitano del pannello nvidia geforce experience altrimenti andate sul mio vecchio video che ho fatto e cercate di fare una soluzione diversa per poter eliminare tutta la telemetria detto questo spero di essere stato utile di aver aiutato qualcuno a non laggare o comunque sia a risparmiare risorse soprattutto per computer portatili che magari mangiano batteria per niente da fermi e basta iscrivetevi lasciatemi un bel commento e alla prossima puntata bye bye